Largo Antonio Tancredi, politico e mecenate. Da oggi Teramo ha uno spazio dedicato all'Onorevole scomparso cinque anni fa. È la rotonda di Via Conte-Contin, dove lo stesso Onorevole Tancredi volle fortemente che venisse posizionata la palla realizzata dall'artista Silvio Mastrodascio. Alla presenza della moglie, dei figli, dei nipoti, del fratello Oscar Tancredi e delle massime autorità locali, c'è stata la cerimonia di intitolazione con oltre 150 presenti. Ma sì, mio padre ha avuto una lunga vita poliedrica, ma in fondo una vita che è sempre tornata qui, a Teramo. Lui è nato qui, sulle campagne di Miano, ed in questa città si è cresciuto, si è riscattato, è stata la storia di tanti italiani e quindi ha condiviso anche con tanta gente il suo percorso, che oggi penso che gradisca questa intitolazione. Io ringrazio il Comune, ringrazio la Banca di Castiglione e la Fondazione Crocetti che hanno promosso questa iniziativa. Quindi, insomma, è un ricordo che penso merita. Poi io penso che i ricordi delle persone, soprattutto di quelle che comunque nella vita hanno fatto molto come mio padre, vanno fatti nel tempo, non si debbano fare nell'immediatezza a caldo. Quindi, credo che ci sarà modo anche tanto di parlare, anche perché la storia di mio padre si incrocia poi con la storia di tante cose e tante istituzioni terramane. Cosa rappresenta questa cerimonia, questo largo che porta il nome di suo padre per lei? Beh, sicuramente un orgoglio e poi principalmente forse uno stimolo, uno stimolo a cercare di fare per questo territorio, per questa città, quello che ha fatto mio padre. Sarà difficile, chiaramente ripercorrere le sue orme, però ci si deve provare, ci dobbiamo provare tutti, perché lui ha amato veramente questa città, questo territorio e questo luogo che all'inizio non mi convinceva, invece è un luogo pieno di simboli, che forse piacerebbe anche a lui, perché ci sono cose a lui care. La storia dell'opera di Mastro Dascio è stata travagliata prima di essere collocata nella rotonda dell'uscita di Teramo, centro dell'8-0. Dopo circa quattro anni di bella mostra di sé in piazza Garibaldi, testimone del traffico e dei festeggiamenti della vittoria mondiale in Germania del 2006, e dopo circa altri tre di oblio in un angolo della villa comunale, la palla in bronzo di Mastro Dascio nel 2011 tornò a campeggiare in una pubblica strada della città. Sotto la neve i tecnici della ditta di Stefano, specializzati in trasporti eccezionali, prelevarono la sfera da 2.400 kg e la portarono a circa un chilometro di distanza nella rotonda di via Conte-Contin. Il tutto sotto lo sguardo attento dell'onorevole Antonio Tancredi, del sindaco Maurizio Brucchi e dell'artista Mastro Dascio. Dovevamo, avevamo deciso che l'opera di Mastro Dascio venisse collocata su questo largo, su quest'uscita dell'autostrada della Teramo Mare, ricostruendo un po' quella che era la fontana che si trovava a piazza Garibaldi e mi ricordo che nevicava, era davvero un tempo, era un brutto tempo e lui però diciamo col suo solito piglio, la sua determinazione e fermezza disse no, lo dobbiamo fare questa mattina e l'impresa era un po' titubante perché comunque il camion era grande, il mezzo era grande e rischiava di scivolare e invece con l'ombrello e con la sua presenza, la mia, c'era Vinicio Ciarroni, c'erano altre persone, spostammo l'opera di Mastro Dascio qui in uno credo delle rotonde sicuramente, delle più belle di Teramo, insomma in questi anni siamo riusciti a caratterizzare un po' le entrate e le uscite dalla nostra città. Ma insomma io ho davvero tanti bei ricordi di Antonio Tancredi, il primo incontro quando mio papà che frequentava la sede della democrazia cristiana in Viale Crispi mi portava nella sede, con lui ero un giovincello e con obbi Antonio Tancredi e di lui mi colpì insomma anche il modo che ha sempre avuto di interpretare il ruolo di un politico, politico con la P maiuscola.